oh 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 oh... Trebbe essere buono! Oh mio dio! Sono scatta delle sette signori, sono appena usciti i giocatori spettacolari, lasciamo tantissimi like. Andiamo a cercare subito, eccoli qua signori. Mamma mia, squadra dei tornei, offerta disponibile mi al 16 dicembre, Levantoschi 92 signori. Se non ci ha messi mi cazzo. No non me la fa vedere signori, non me la fa vedere. Quindi andiamo subito a spacchettare come dannati, signori Mamma mia, speriamo che hanno messo i pacchetti speciali Dai, hanno messo i pacchetti speciali, signori Subito, via, via subito, tutti quanti Comunque, bene a tutti i giorni, Gnurri Oggi siamo qua a questo pack opening, spettacolare Arriviamo a 4.000 like Rispondete alla domanda del giorno, come sempre, buon sabato Speriamo assolutamente di trovare qualcosa, signori Se non troviamo qualcosa, veramente è un suicidio Ci abbiamo altri 11.000 FIFA Points Dai, attenzione, Radeo 82, portiere Dai, Star, ok, niente di che, niente di che Porplacer, porplacer, ancora Radeo 82 alla destra Orellana, dai Ancora Radeo 82 più, vediamo un po' chi è Chi è, è Bernard Voglio di giocare, attenzione Palla grande, portiere Chi è, oh, oh, placca Ma, non ce l'ha Sì, no Cosa, signori, sì Ah, così era, quello champion Sabbè, 15.000, buono Ancora 14 pack rimasti, signori Quanto ti da aprire questi Pi, sicure, ancora a carta, ravina, ravina da sino d'estro schifuso di merda Di merda Via via tutto, questa forza per la volta, non lo so Dai, 13 pack, non si trova niente signori per me grazie l'uomo buone buone portano portano mamma mia cominciamo al massimo non è stato un'attività così così va bene mamma mia signori si inizia con il botto si inizia con il botto signori ok questi mescoli non è un lavoro di caldo niente che stanno la prezzo oh mio dio signori attenzione palla non troppo grande come se buono l'ultimo 8 pacchi è rimasti signori let's go dai palla se mi rossa sola di santa dai 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 ecco un altro ecco un altro dai 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 quattro pacchi rimasti quattro pacchi rimasti oh 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 esterno sinistro monaco lemar buono così il cazzo cazzo buono così signori quanto vale mamma il cazzo di voi vabbè su 36.000 vabbè andiamolo così mamma mia signori che faccobling che faccobling no eh cazzo attenzione ok signori dai lascio capiamo account rapidamente capiamo account capiamo account su 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 andiamo primo pack schifo dai lagga un pochietto lagga un pochietto pochettino lagga lagga un pochettino cazzo l'ho scartato vabbè sciallo pochettino niente manco qua prossimo pack dai di qua invece dai 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 palla media palla media portiere navas vabbè ci sta ci sta pure un male incazza navas è buono questo è buono signori questo è buono che cazzo niente neanche una sfera grossa ma da dai qui è buono qui è buono niente sarà marsella no marsella no quelle te ne avranno trovato ok sera attenzione che a walk out no c'è il cifo si questi così ondo vale ma eccoli ma eccoli c'è ragazzi ho blackroll l'hanno messo eh neymar neymar ragazzo che dici ci connettemo signori ci metto una vita a connettersi ma io vi devo far vedere il mio cazzo video in vera vabbè su altri 150 prima c'è su potrebbe essere buono oh no oh mio dio oh no chi porca puttana Kimmich oh mio dio me lo sentivo però te lo giuro io pensavo con oh mio dio signori hai potate più scarci eh ma che dici questo vanicchia comunque oh mio dio che me no le scatta scatta al porto che vale che me che me mamma mia signori vabbè abbiamo trovato tuttavia dai pensavo con una 40 min mamma mia signori non ci credo signori abbiamo trovato un altro 2.0 eccolo qui Dembele Dembele primo cuore titolare eccolo qua Kimmich ragazzuoli le mar e Gomez vabbè quando sta qua niente ancora nessuno zero vabbè probabilmente della spax signori tanto vi vado a salutare ragazzuoli il video di oggi è terminato come siate lascia un like un commento iscrivi se ancora ho allevato come siate qui da Talox è tutto Tintalox Tic different bella ragazzi bella